Ciao a tutti amici di XtremeWord.com, sono io e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi abbiamo il Gigabyte Uranium, si tratta di un mouse wireless caratterizzato alla presenza di questa piccola dock, se vogliamo, dotata di un display che ci permetterà di configurare alcuni parametri del mouse stesso. La confezione è molto molto grossa, circa, se potete apprezzare tra i video, sarà almeno due o tre volte uguale di un mouse normale. Vede nella parte frontale raffigurato il mouse, il modello, è sotto ogni dito, e il simbolo della tavola periodica dell'Uranium. Nella parte destra abbiamo alcune informazioni tecniche, come possiamo vedere si tratta di un mouse lag free, con USB polling rate 1000Hz, che non è scontato con un mouse wireless. Nella parte posteriore c'è raffigurato, diciamo centralmente, appunto il display che ci permetterà di controllare i profili e, come vedete, alcune impostazioni, ad esempio della risoluzione del sensore polling rate e via dicendo. Abbiamo 10 pulsanti programmabili, scroll a 4 direzioni, e la possibilità di cambiare al volo, ovviamente, la risoluzione del mouse. Nella parte dietro possiamo vedere la presenza del sensore Philips, fino a 6500 dpi, 1000Hz di polling rate, 50 giri d'accelerazione, 150 pollici per secondo, 10 pulsanti e poi le dimensioni. Andiamo a aprire la confezione, un attimino, c'è il sigillo di garanzia nella parte superiore, ecco qui, si è tolto molto velocemente questo giro. Per chi ha visto già gli altri unboxing, possiamo dire, se riusciamo a tirare fuori ovviamente la scatola, che apparentemente la confezione è molto simile a quella già vista in passato, eccola qui. Infatti, se vi ricordate l'unboxing degli altri mouse, abbiamo spesso trovato le scatolette nere all'interno della confezione, imbosita con della spugna antiurto ed ecco qua il prodotto contenuto. Abbiamo il mouse, eccolo qui, mouse ergonomico, come potete osservare, dal profilo, scroll, quattro direzioni, ovviamente rotazione, sentiamo un rumore, abbastanza silenzioso, i scatti non sono particolarmente netti. Vari pulsanti aggiuntivi, sia nella parte superiore che appunto nella parte laterale, e poi i due tasti principali, scusate. Come materiale abbiamo un materiale ruvido, leggermente finemente bucciato nelle parti laterali e una specie di plastica soft touch nella parte superiore, al tatto è leggermente diversa dal solito, ecco. Per quanto riguarda la parte inferiore abbiamo il sensore di Philips, eccolo qui, pulsante d'accensione, un pulsante che probabilmente servirà per la sincronizzazione e ovviamente nella parte anteriore porta micro usb per la connessione alla piccola dock station e anche per la ricarica. Le batterie sono di tipo AA, ricaricabili, due sono contenute nella confezione del mouse. Andiamo, procediamo con l'unboxing dei pezzi. Eccoci qui. Allora, il display. Il display lo vedremo meglio, come abbiamo già detto prima, nel prossimo video, dove lo vedremo proprio in funzione. In ogni caso c'è questa parte, ok, due connettori USB, placcati di oro. Uno è per la ricarica, come potete vedere qua dal simbolo del mouse, mentre l'altro invece è quello che connette il display al computer e ne permette il funzionamento. Nella parte superiore abbiamo questo piccolo display che è regolabile a livello di inclinazione e davanti il cavetto micro USB estensibile, ecco qui, potete vedere, con la mola di ritorno per ricaricare il mouse e per usarlo senza batterie sostanzialmente. Nella parte superiore sono presi due pulsanti che vedremo poi nel dettaglio il funzionamento durante la video recensione e il prossimo video. Vediamo ancora cosa contiene la confezione. C'è qua un piccolo box. Eccoci qui. Abbiamo guida introduttiva per l'utilizzo del mouse, come sempre, quindi informazioni di uso e configurazione. Un panno per la pulizia probabilmente del display. Questa piccola schedina che non ha praticamente utilità. Un'altra schedina per la registrazione e avere altre funzioni sul forum di Aivia, o come si pronuncia. Mouse fit di ricambio per il mouse e poi ovviamente le due pile ricaricabili tradizionali che andremo poi a installare nella parte inferiore del mouse. Per quanto riguarda il Gigabyte Uranium abbiamo detto tutto quanto, lo vediamo ancora un attimino al mouse. Vedremo nel corso della recensione e del prossimo video maggiori informazioni per quanto riguarda il mouse e per quanto riguarda soprattutto la piccola dockstation configurabile che è, diciamo, l'aspetto caratteristico e particolare di questo